Quest'università, non so se si lega al discorso che lei faceva del pubblico e del privato, questa università sarà sempre più destinata ai ragazzi di famiglie più ricche. Io a questo punto, che peraltro ci hanno ripetuto più persone che facevano parte del corteo, non ho capito bene in che senso. Qual è il punto della riforma Gelmini per cui l'università va verso in un qualche modo un'università elitaria, quando tra l'altro in un certo qual modo, e così anche adesso, perché vogliamo dire che i figli di chi può permetterselo già adesso, prima della riforma Gelmini, vanno a studiare in America, vanno a studiarne l'università all'estero? Io credo che il problema non sia il fatto che questa università diventerà una diversità elitaria. Io credo che questa università, con questa riforma, diventerà un'università pubblica italiana, tenderà a diventare un'università di serie B. Un'università di serie B perché avendo sempre meno risorse, avendo sempre meno risorse sia per la ricerca sia per la didattica, vorrà dire che i ricercatori bravi, come già stanno facendo ormai da tempo, in modo sistematico, se ne vandranno sempre di più. Cioè quelli bravi andranno in altri posti dove potranno fare ricerca, dove potranno studiare, avere gli strumenti per i laboratori, avere anche dietro un paese che crede in loro, che punta su di loro, e gli studenti, e quindi andando via, i professori anche migliori, i ricercatori migliori, perché non hanno gli stipendi come gli altri paesi, non hanno gli strumenti come gli altri paesi, non hanno un governo che finanzia l'università, non hanno come dire anche una politica che crede nell'università, e quindi è il nostro lavoro, vorranno andare via. E questa università diventerà un'università di serie B, che sempre di più, secondo me, gli studenti non vorranno fare, perché cosa fa un'università dove c'è una didattica non di qualità, dove i professori sono, come dire, quelli che sono rimasti su me. Quindi saranno demotivati ad iscriversi, sostanzialmente. E quindi cosa faranno? Questo almeno per come la vedo io, ma non credo che sia soltanto un'opinione politica. E all'interno di questo meccanismo è chiaro che, come già si sta facendo, si favorisce tutta l'istruzione privata, quindi andare nell'istruzione privata ovviamente si paga ed è, da questo punto di vista, per chi il denaro ce l'ha, quindi la scelta sarà tendenzialmente tra un'università pubblica di serie B e un'università privata, diciamo, di serie A. Adesso siamo di serie A. Però io non interrompo mai nessuno, non lo so perché. E quindi, da questo punto di vista, verrebbe meno quella, non l'uguaglianza di tutti, perché se uno è bravo è bravo, e se uno non è bravo non è bravo, ma l'uguaglianza delle opportunità, c'è l'uguaglianza del punto di partenza che è fondamentale, non è il punto di arrivo per cui tutti devono avrearsi, tutti devono essere bravi, è il punto di partenza, le opportunità uguali per tutti che sono importanti in un paese civile. Poi, chi è bravo dovrà essere sempre di più, non solo alimentato, ma dovrà il paese puntare su di lui, dire questo è bravo e io penso che sia il mio futuro. Quello meno bravo farà un'altra cosa, d'accordo? Però che tutti si parta sullo stesso piano, è un criterio fondamentale per la società civile. Invece questa riforma, per come la vedo io, è una riforma che tenderà a cambiare, cioè come dire, ad avere livelli diversi di opportunità. Io credo che non sia democratico, che non sia giusto, per questo è una legge iniqua, perché è una legge che tendenzialmente non investe sull'università pubblica e poi dice se c'è un'università privata ci mancherebbe, si forme, si finanzi, cresca, che tra l'altro in Italia non c'è una tradizione, di una delle ragioni per l'altro, perché non c'è una tradizione di un'università privata forte, io credo quello. Questo è l'effetto di lunga durata, quello che magari non si vede ma che, perché non è pensabile che l'istruzione, lo diceva quel signore che ha telefonato, diceva quello, noi abbiamo le scuole che cadono a pezzi, è pensabile che in un paese, come Palazzo Nuovo è peraltro, è pensabile che uno studente entri in un'aula e sia a un numero superiore di quelli che ci devono stare, quindi la sua sicurezza è messa, o che cadono, o che i pavimenti di Palazzo Nuovo sia così, o che dai tetti delle scuole elementari o medie rischia di cadere il tetto. Ma questo, se posso rispondere... Lo capisce anche la signora Maria e si sta preoccupando, perché... Si preoccupa di mandare i suoi figli a scuola, perché mio figlio è a scuola... Se diventa così, diventa preoccupante, diventerà così. Il ricercatore ha i vasi in modo, devo dire, molto sapiente la domanda che lei ha fatta. La risposta che davano i ragazzi intervistati alla domanda perché sei qui a protestare, era perché se passa la riforma Gelmini, i meno ambienti non potranno più studiare. Penso che... Cioè, è stato questo, sono state queste le affermazioni fatte dagli studenti. Io sono una studentessa che studia parzialmente anche grazie alle borse di studio Edisu, che sono dei contributi che lo Stato e la Regione danno ai meno ambienti per studiare. E mi sono informata molto bene, prima di scendere in piazza a manifestare, questa riforma, questo DDL, innanzitutto non parla di tagli alle borse di studio. In ogni caso, la finanziaria, sempre che verrà approvata a dicembre, prevede uno stanziamento standard per i meno ambienti, come è sempre stato in tutti gli altri anni. Ma questa riforma, se proprio vogliamo dirlo, prevede un fondo per il merito. Posso? Sì, ma a me è quello che mi preoccupa, che ha detto Maida. Scusi. No, però questa cosa ha ragione, ha ragione. No, però io voglio capire questo fatto dell'università di serie A, di serie B, privata e pubblica. Ma che prese solo la mancanza? Che l'università di serie B che dipingono, quella con i tetti che crollano, quelli dove non funziona niente, dove le risorse ci sono, perché se vengono tagliate al momento ci sono, ma sono sprecate, è l'attuale, è quella pre-riforma, è quella che loro vogliono difendere. Questa è la situazione che non torna nel vostro ragionamento. L'università di serie B, però non è questa, è un'università che non forma, che non offre formazione, che non offre opportunità. Questa è un'università di serie B, questa è un'università che vogliono quelli che vogliono la riforma di serie B. Ma c'è già adesso. La prima legge è questa. Abbiamo detto che anche questa è un'università che ha questi problemi, cioè quella fino all'alto ieri. Ha un sacco di problemi a quest'università e sicuramente il modo giusto per peggiorarli è esattamente approvare questa legge. Tanto, visto che questa legge passerà a dispetto delle proteste, se è che non sono riusciti a forzare la mano a un governo democraticamente eletto, avremo modo di verificare se l'università futura risponderà a dei criteri di merito, di efficienza o se continuerà a essere questa sorta di parcheggio, pure tra l'altro in via di crollo, che è stata fino adesso in questi 30 anni. Viale, l'unico non universitario di questo confesso. La mia impressione è che cambierà poco, perché alla fine la posizione che vedo di chi protesta è molto ideologica, è molto ideale. Infatti ha ragione quando si dice che lo slogan semplifica però quando dice difesa della scuola pubblica e permettiamo a tutti di andare in società, giustissimo, sono d'accordo, poi bisogna capire cosa vuol dire tutti e se la scuola pubblica poi prepara e dà degli sbocchi, oppure non li dà. E quindi vuol dire una programmazione di base anche agli accessi. Parliamoci che ritondo, perché se tutti accediamo e diventiamo notari e tutti diventiamo notari, poi è una falsa democrazia, perché chi ha un notario alle spalle fra il notario l'altro andrà a fare... Ma questo che vuol dire? Non ho capito. No, vuol dire che io credo che ci sia, bisogna avere il coraggio di dire che in questo movimento ci sono varie anime politiche, ma anche gli interessi dei ricercatori e dei professori universitari e di chi l'università ci lavora non sono gli stessi interessi degli studenti. Grazie.